Che cosa ci dice il dottor Guarino sulla flora? Io mi permetto di aggiungere un piccolo tassello alle fondamenta dell'edificio che stiamo costruendo e il motivo per cui stiamo seguendo quest'ordine. È un ordine coerente peraltro con le modalità di ricerca che sono state adottate sul campo. Prima viene la geologia, l'assetto territoriale che è plasmato dagli aspetti inorganici. E poi c'è la flora e la vegetazione, già menzionata dal collega Mario Ventivenga, che è un'interfaccia viva e mutevole che aggiunge complessità al mosaico territoriale in infinite fumature e variazioni individuali. Vegetazione e flora sono la società e l'individuo. Per cui studiando flora e vegetazione, da un lato si acquisiscono nuove conoscenze sul territorio, un formidabile strumento di lettura biotica del territorio, e dall'altro si riesce anche a delimitare con efficacia non soltanto le unità geomorfologiche, ma andando un pochino oltre, gli habitat, che sono la parola chiave della rete Natura 2000. Quindi lo studio della flora e della vegetazione, ovvero come i singoli componenti della flora si assemblano a costituire comunità vegetali, è il primo e fondamentale strumento di diagnosi degli habitat. Le piante non si muovono, sono facili da vedere, quantomeno le piante vascolari, e a particolari comunità vegetali si associa poi, come vedremo, anche una prevedibilità ragionevole della presenza o meno di componenti faunistiche. Quindi il lavoro che è stato fatto dalla componente botanica della cabina di regia è stato essenzialmente la cartografia degli habitat, l'individuazione delle emergenze floristiche, delle specie rare, delle specie citate nei vari strumenti di tutela della flora spontanea, non ultimo le specie espressamente citate nella direttiva habitat, che oltre a citare habitat cita anche specie, e l'individuazione anche di comunità vegetali, in cui fortissima è l'influenza dell'uso millenario del territorio lucano, un uso estensivo, poco pervasivo, nel determinarmi l'espressione migliore. Pensiamo ai pascoli arborati, che abbiamo visto anche citati nel filmato, pensiamo alle grandi estensioni dei prati aridi, delle pratterie xerotermofile, ricche fioriture di orchidee, che è un altro habitat fortemente orientato dall'uomo, in alcuni casi, e moltissimi altri, habitat acquatici che sono legati per esempio a manufatti antropici, dighe, fontanili, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che ha fatto il botanico. Le parole chiave che io ho sentito nelle presentazioni che ci hanno preceduto sono risorse, non vorrei rubare il lavoro, risorse ed essenza della lucanità. Essenza della lucanità è stata un'espressione utilizzata dal professor Sergio De Franchi, risorse, le mille risorse della Basilicata è stata utilizzata da Antonella Logiurato. Beh, la flora e la vegetazione sono una risorsa, l'essenza della lucanità è data dal genius loci, è data da tutto ciò che tra le risorse contribuisce in maniera fondamentale a contraddistinguere e a connotare questi luoghi. E quindi la flora è una risorsa importante, perché la flora lucana è ricca di influenze orientali, di elementi orientali che qui sono particolarmente ben espressi, possiede anche alcune specie esclusive, alcuni endemismi. e oltre a questo c'è la risorsa umana. La risorsa umana è ampia, diversificata, le società umane sono in divenire e quella che interessa il botanico e chi si occupa in generale della protezione della natura è una risorsa umana che forse ha avuto nel tempo pochissimi riconoscimenti per il suo operato e che ha vissuto magari la sua condizione umana nel tempo come una condanna. Le aree interne a cui faceva riferimento il professor De Franchi effettivamente sono state aree che in passato hanno sofferto magari di povertà, di marginalizzazione, ma sono riuscite attraverso un'opera straordinaria a creare la bellezza e l'evocatività e la suggestività di questi luoghi. Adesso siamo di fronte a risorse umane in gran parte giovani che sono venute qui e che sono doverosamente citate anche nelle varie opere, negli vari output divulgativi di questo progetto Rete Natura 2000, non ultime le pubblicazioni sugli habitat che si potranno visionare lì. E queste risorse umane, in divenire, in quanto giovani, sono occhi attenti alle peculiarità del loro territorio, in grado di partecipare attivamente alla salvaguardia di questo valore che è la lucanità, tutto ciò che rende non banale questa terra e hanno partecipato anche al successo di questo evento presentando moltissimi poster, partecipando attivamente ai concorsi fotografici e contribuendo a celebrare la bellezza dei luoghi in generale. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.